Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video dove vi parlerò di cosa succederà nel canale nelle prossime settimane Allora, come avevo già detto in un video di qualche giorno fa, vi ho accennato, anzi, perché non è che vi ho proprio detto tutti i dettagli Questo è l'ultimo video che farò, diciamo, per le prossime circa tre settimane Perché, vabbè, a parte il fatto che di nuovo andrò in vacanza e ci staranno per più di una settimana, non come prima Non sono riuscito neanche a programmare, cioè a pre-registrare dei video perché non ne ho avuto il tempo Quindi questo sarà l'ultimo video fino a, credo, inizio agosto Mi spiace non poter portare più video per tre settimane Ma, come sapete, visto che io non ho fatto vere pause nel canale da veramente più di un anno Perché quando ho iniziato seriamente a fare video tutti i giorni non ho mai fatto pause Se non una volta l'anno scorso, più di un anno fa Questa sarà una pausa del canale che durerà circa tre settimane Perché, come sapete, adesso è finito l'anno scolastico, è finita la stagione, che ne so, sportiva, di tutto E la stessa cosa vale per il canale Nel senso che dopo, quando tornerò, ci saranno alcuni cambiamenti Che, vabbè, ve ne parlerò con più dettagli quando tornerò Quando ricomincerò a fare video E poi, vabbè, qualcosina vi dico anche adesso Tipo, magari inizierò con i saluti, cambierò la grafica Adesso cercherò anche di cambiare l'intro Ma non lo so, quello non ve lo assicuro Perché devo riuscire a crearne una migliore di quella che c'è adesso Che, vabbè, non è un granché Però, almeno, diciamo, ce l'ho da un bel po' di tempo Volevo trovarne una veramente fatta bene Prima di cambiarla Poi la grafica nuova Ce l'ho già pronta, quindi la cambierò E poi, ovviamente, inizieranno nuove serie Non vi garantisco che le nuove serie inizieranno subito quando tornerò Ma per settembre, massimo, massimo, ottobre Inizieranno delle nuove serie di giochi Non solo per 3DS, ma anche per Wii U O magari anche PS3 Visto che io ho la PlayStation 3 Per la PlayStation 3 potrò fare PS 2017 A questo punto, perché a settembre esce Per la Wii U, invece, potrò fare vari giochi Tipo Splatoon È il primo che avevo in mente di portare Visto che tempo fa gli avevo fatto anche un video Cerca un mesetto fa Avevo fatto un video dove Cioè, proprio su Splatoon Con un mio amico anche che giocava Con me E poi potrò fare video anche di, che ne so Super Mario Maker Li potrò registrare meglio Poi anche Super Mario 3D World Vabbè, quello non credo che lo porterò Pure il New Super Mario Bros. U non credo che lo porterò Vedremo magari una serie aggiuntiva più avanti Magari potrei anche farla E magari anche Mario Kart 8 Quello potrei anche portare qualche sfida online Ci starebbe anche a fare qualche live in diretta A proposito La live in diretta Io avevo in mente di farla per i 6.000 iscritti Volevo aspettare però l'annuncio, diciamo, del nuovo Inazuma Che sarà il 27 di luglio Io vi ripeto che Il 27 di luglio Ci sarà questo evento della Level 5 Infatti si chiamerà appunto Level 5 Vision 2016 Dove La Level 5 appunto Presenterà i suoi nuovi giochi Tipo Yo-Kai Watch 3 No, no aspetta Yo-Kai Watch 3 mi sembra che già esce Nei prossimi giorni In Giappone Però Sicuramente presenterà il nuovo Inazuma Il Professor Layton E poi altre nuove serie Che adesso non ricordo E volevo fare una live appena torno Dove parliamo appunto Del nuovo Inazuma Dove tipo Vediamo un po' di trailer Che sicuramente usciranno Vorrei farla in diretta questa cosa Mi piacerebbe tanto farla Però purtroppo c'è questa cosa qui Che vado Cioè che faccio la pausa del canale Quindi per agosto Inizio agosto Magari massimo massimo Per il 10 Quei giorni lì La seconda settimana La potrei anche fare E vedremo Dai Per il momento Vi dico solo queste cose E niente Allora per questo video è tutto Credo di aver detto tutto Almeno Quindi Al mio ritorno Inizierà proprio la nuova stagione Del canale Con tante nuove serie Magari non subito Ma più avanti Verso settembre Ottobre Inizierò nuove serie Continuerò Che il gameplay completo Di Chrono Stone Galaxy no Perché l'ho già fatto In giapponese Non credo che lo farò Ancora in italiano Tutto il gameplay Magari qualche guida Queste cose qui Sicuramente le farò Quando uscirà il gioco In italiano Che per il momento Non si sa Quando uscirà Parlo anche di questo Perché mi Diciamo fate Continuate a fare queste domande Il Galaxy Del Galaxy Ancora non si sa Niente Non si sa ancora Niente dell'uscita In Europa Molti dicono Che esce a settembre Non è vero Perché Nintendo Non ha annunciato Il gioco Non si sa niente Pure delle password Del Chronostone Ormai io non ne parlo Quasi neanche più Perché non ci penso più Perché non lo so Non le hanno fatte uscire Quindi niente Per quelle Mi sa che non usciranno mai A questo punto Però per il Galaxy Non usciranno Nel senso Non usciranno Non so perché Ho detto così Vabbè Nel Galaxy Vi ripeto Che non Non si sa ancora Niente Infatti il gioco Che la level 5 Presenterà A fine mese Il 27 di luglio Nel suo Al suo evento Non è il Galaxy Assolutamente Perché alcuni Si confondono Con questa cosa Me l'hanno già detto E quindi Non è È un altro Un nuovo gioco Un nuovo Inazuma Che verrà presentato Che uscirà in Giappone Io spero che uscirà Per 3DS In modo da poterci fare Il gameplay Appena esce Speriamo bene Perché Sarebbe una bella cosa Se uscisse per 3DS E neanche troppo tardi Perché non vedo l'ora Io che esce Perché veramente Voglio soprattutto Sapere cos'è Perché non si sa Quasi niente Si sa solo che sarà Un ritorno alle origini Da come ha detto Il presidente Della level 5 Tipo senza Spiriti guerrieri Armature Miximax Tutte queste cose qui Da quanto pare Verranno tolte Anche Soul Ovviamente E rimarranno solo Le vecchie tecniche speciali Vecchie Nel senso che Sicuramente Spero che ce ne saranno Di nuove Ma vecchie Nel senso che sono Quelle che c'erano All'inizio Le uniche cose Che c'erano Nei primi giochi I primi 3 giochi Sì Ok niente Credo di aver detto tutto Ancora una volta Lo ripeto Perché devo farmi venire in mente Magari altre cose Mi potevo anche scrivere Però vabbè Niente Vi ricordo allora Di iscrivervi al canale Se l'avete già fatto Non disiscrivetevi Per queste 3 settimane Perché Ci sarà tanto Da fare Cioè Tante serie nuove Che farò Quando torno Speriamo che sarete più Ovviamente Se voi Scrivete i commenti Io ci sarò ancora Nel senso che Pure queste 3 settimane Io potrò rispondere Ai commenti Questo è sicuro Quindi voi Potete anche farmi Due domande Qualsiasi domanda Magari Non mandatemi Messaggi privati Su facebook Perché lì Non posso rispondere O meglio Quelle Diciamo Nella chat Perché lì Non posso Non avendo L'applicazione Necessaria Non credo neanche Che la installerò Per questo Magari ci penso Ma non credo Quindi voi Se mi mandate dei commenti Io ci sono Posso rispondere Ve lo ricordo Quindi per questo video È tutto Ci vediamo al prossimo Vi ricordo che trovate In descrizione I link I miei profili Twitter E più in particolare Facebook Perché è lì Che vi aggiorno Sulle notizie Che riguardano il canale Magari vi aggiornerò Anche in queste tre settimane Vi dirò Più o meno Quando ricomincerò A fare i video Quando tornerò Perché non lo so Ancora adesso Di preciso Quindi vedremo E niente Vi ricordo Anche che Nella descrizione Di tutti i video Trovate anche Il mio Nintendo Network ID Che potete utilizzare Per mandarmi Una richiesta D'amicizia Oppure semplicemente Seguirmi Sul Miiverse Della Wii U Eppure se mi mandate Richieste di amicizia In queste tre settimane Sarà difficile Che vi possa rispondere Ecco O accettare Vabbè Perché sapete il motivo In ogni caso Ok Allora ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti